Salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video. Sono qui immerso nel Chobi National Park, sono in Botswana, e non sapete quanto l'esposizione ad una natura così selvaggia, il entrare a contatto con i bushman, cioè gli esperti della savana, che riescono a sopravvivere in posti estremi, popolati da animali ferocissimi, dai leoni, leopardi, chepardi, eccetera, non sapete quante riflessioni mi porta a fare, perché poi alla fine la saggezza popolare è uguale in tutto il mondo e ha sempre da insegnare tantissime. Oggi stavamo parlando, abbiamo fatto un'uscita questa mattina alle 5 di mattina, c'è stata la sveglia, siamo usciti prestissimo per andare a fare il primo giro all'interno del Chobi National Park, e tra l'altro siamo riusciti a vedere i cuccioli di leone, finalmente dopo più di quasi dieci giorni che eravamo qui in Botswana, li stavamo probabilmente rincorrendo, 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 e alla fine ci siamo riusciti proprio questa mattina, non sei mai quello che la natura ti presenta. Ci faceva riflettere su un concetto importante rivolto alla natura, questa mattina la nostra guida, e ci diceva, adesso ve la dico in un'altra forma, ce l'ha detta in inglese ed era rivolta alla natura, ma ve la voglio riportare sul mondo del trading per farvi capire quanto è importante questa lezione, cioè che a volte l'uomo tende a sottostimare quello che può fare, che riesce ad ottenere in termini di obiettivi in 5-10 anni, e sovrastima invece quello che può fare in un arco di tempo inferiore, 6 mesi, 12 mesi, 2 anni. Questa è una lezione importantissima qui sul trading, nel mondo del trading, e vi spiego perché. Perché ragazzi, purtroppo quando ci si avvicina al trading all'inizio, quando non si conosce molto bene questo settore, questo mondo, ma si viene bombardati da informazioni e pubblicità che non fanno altro che ripetervi, usare la leva del farvi arricchire facilmente. Quanti broker, prima, adesso non lo possono più fare, usavano il concetto di leva, dicendovi che anche se avevate un capitale piccolissimo, potevate aspirare a diventare ricche e guadagnare tanti soldi utilizzando leve altissime, leve da 200, una a 500, erano tanti. Quante persone, anche su YouTube, purtroppo vi dicono che si sono arricchiti con il trading e che hanno la strategia, vi possono insegnare la strategia che non perde mai e la strategia che vi farà diventare ricchi. Ecco, purtroppo anche di queste persone ce ne sono tante troppe per quanto vi riguarda in questo settore, perché la verità è che è facile fare leva giocando, usando i soldi come concetto. E quindi ci si crea questa aspettativa, questa idea, che con il trading è facile far soldi velocemente, in poco tempo. E quando si inizia a far trading, si vuole quindi far soldi in poco tempo, velocemente. La realtà invece, poi, queste persone si scontrano purtroppo contro i muri e scoprono che la realtà è un'altra. A meno che non abbiate capitali enormi, non enormi, capitali alti, ragazzi. E quindi, diciamo, iniziate a far trading con mille euro o meno anche, addirittura. Bene, non vi potete aspettare di poter raggiungere risultati economici in poco tempo. E il problema è che poi queste persone smettono di far trading, sottostimando quello che in realtà potrebbero ottenere in 5, 10, 15 anni, anche con quei mille euro di partenza. Allora, in quel modo sì che potete pensare di trasformare piccoli capitali, non trasformare, far lavorare piccoli capitali, fino a che non si raggiungono poi con il tempo, però risultati enormi. Quindi, non fate questo errore, non sovrastimate quello che potete fare in poco tempo, avendo l'aspettativa di dover diventare ricchi subito, di dover far lavorare i soldi per voi da subito con il trading, perché c'è tanto da studiare, c'è tanto da imparare, perché all'inizio il vostro capitale è piccolo, anzi, anche se avete un capitale che non è poi così piccolo, il mio consiglio, il consiglio che do a tutti i miei corsisti è di iniziare con un capitale piccolo a far trading, dopo aver fatto la demo, dopo aver studiato tutte le lezioni del mio corso, quindi essersi presi... Pensate, il mio corso, solo per guardarlo, per completarlo, ci si mettono 4 mesi, però io poi consiglio altrettanti mesi di demo per applicare tutto quello che si è imparato, prima di cominciare a piccoli passi con un conto reale, e lì dico sempre, mettete solo una piccola parte del vostro capitale in reale, perché è normale che all'inizio farete errori. Però ragazzi, veramente, non sovrastimate questo breve termine, che poi vi fa necessariamente gettare la spugna, non vi fa più continuare con il trading, perché sottostimate quello che potete raggiungere in tanti anni, in 5, 10, 15 anni, è così che dovete vivere il trading, e funziona così anche, riparto dall'inizio del video, così funziona anche sulla natura. Alla natura serve tempo per ottenere geneticamente, il discorso che ci faceva oggi la guida è come geneticamente la natura seleziona i geni più forti degli animali, che sono poi alla fine solo quelli che si riproducono, creando animali sempre più forti, più robusti, che possono preservare la specie. E quindi facevamo il discorso con i cacciatori, i cacciatori che per fortuna in Botswana è vietata la caccia, i cacciatori però che vogliono il trofeo, che cosa fanno? Puntano agli animali più grandi, quelli più belli, quelli più forti, e così facendo uccidono interi decenni o centinaia di anni di selezione naturale. Perché solo con il tempo la natura può esprimersi. E quindi la riflessione che voglio fare oggi con voi ragazzi è anche nel trading è così, solo con il tempo i trading system, le vostre strategie di trading possono esprimersi. Perché è normale che all'inizio ci possano essere delle piccole perdite o periodi di perdita, ma se le strategie sono robuste, testate nel tempo, e le avete selezionate, le avete appunto controllate nel passato in maniera minuziosa, allora si esprimeranno con il tempo e vi potranno dare molte soddisfazioni. Il trading vi darà soddisfazioni se avete studiato, se conoscete la teoria, se conoscete la pratica, se siete andati oltre agli errori che magari ho alle difficoltà iniziali. Quindi, veramente, non sottostimate quello che potete ottenere nel lungo, nel medio lungo termine, nemmeno vi sto dicendo dovete aspettare dieci anni prima di togliervi le prime soddisfazioni. No, scusate, sono pieno di animali che tentano di appiccicarsi a me, di mordermi, sono qui, come vi dicevo prima, lì c'è il fiume Ciobbe, quindi c'è molta attività qui. Perciò non sottostimate quello che potete ottenere nel breve termine, che non vuol dire aspettare dieci anni. Però, non abbiate nemmeno fretta. La fretta nel trading vi consuma, vi logora, vi fa fare errori, perché poi scatta tutta la parte emotiva. Non affrontate il trading con la fretta di voler vedere subito i risultati. Ok? Soprattutto se avete capitali normali, modesti. Io ho iniziato a fare trading più di dieci anni fa, ormai, con capitali piccoli, veramente molto piccoli. Però nel tempo, adesso non voglio nemmeno dirvi quanto ho raggiunto, ma nel tempo mi hanno dato molte soddisfazioni. Non ho avuto fretta. Perché all'inizio ho avuto mentor che mi hanno, persone che mi hanno insegnato, ho letto i libri giusti, eccetera. Però non fate questo errore. Affrontate le cose come, sapendo che tutto richiede del tempo. Poi ci sono tempi che potete accelerare. Per esempio l'apprendimento, l'apprendimento io dico sempre. Con il trading voi potete essere autodidatti, e ovviamente richiede un certo tempo essere autodidatti, perché dovete leggere, studiare da voi stessi. Oppure potete fare un corso, non sto facendo pubblicità al mio corso, assolutamente non voglio fare pubblicità al mio corso, però voglio dirvi, se volete accelerare il tempo di apprendimento, avere un mentor, qualcuno che vi segue, ovviamente vi aiuta, perché vi aiuta a non fare tutti gli errori iniziali, che sono fisiologici. Si dice in America mettersi sulle spalle dei giganti, cioè delle persone che hanno più esperienza di voi in un settore, e possono insegnarvi di più, possono insegnarvi più velocemente. Però poi c'è la pratica, e quello è qualcosa che dovete far voi nel trading, non può il mentor farla al posto vostro. Il mentor può dirvi quando avete fatto bene o male, può rispondere a vostri dubbi e domande, ma la pratica la dovete far voi, e la pratica richiede tempo. Non datevi fretta, non sottestimate quello che potete ottenere nel medio-lungo termine, e non fatevi bruciare dentro quella fretta di dover diventare ricchi subito, o finanziariamente indipendenti. Diventare finanziariamente indipendenti è un percorso veramente di medio-lungo termine, non è qualcosa che ottenete subito, a meno che non siete ricchi di famiglia, e allora è tutto più facile. Io non lo ero, non so quanti di voi lo sono, però, veramente, ragazzi, come la natura, cercare di avere lo stesso approccio che la natura ha con qualsiasi cosa. Tempo al tempo, e i risultati arrivano, se usate il cervello. Ragazzi, grazie mille per l'attenzione, adesso noi abbiamo una fantastica gita sul Ciobe, sul river, sul fiume di Ciobe, andiamo a vedere il tramonto con i immersi da elefanti e popotemi che si fanno il bagno, sarà fantastico, ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti. Ciao. Ciao. Il nostro ecologico è stato riuscito a riuscire la mia madre per un po' anni fa e ha dieduto da un virus in il corpo che aveva. L'unfortunità è passata, ma con questo abbiamo avuto un'attività, dove andare con il pangolin, vedere come si fa, tutto. Abbiamo avuto un'attività come quando il pangolin è passata. L'unfortunità, ma abbiamo avuto un'attività di pangolin, ma non vediamo. A volte vediamo. Ma in la città è un'attività.